Simpaticamente, perché siccome sarà un po' lungo questo blog, mi ha chiesto Foodspin di non aprire il pacco, così, mentre sto girando il blog, sarà montato perché sarà un po' più lungo, non faccio tutto il live con voi perché dovrò anche cucinare, però, ho detto, lo faccio almeno la prima parte perché su questo pacco c'è una maxi offerta, o caspiterina, non mi ricordo tutta l'offerta, mi sa che sono 20% per soltanto fine scorte o per una settimana, però, ripeto, scusate, quelli che mi stanno seguendo vi metterò tutto ovviamente nel blog che più tardi metterò su Instagram TV, metterò su Facebook, metterò su YouTube, così potete vedere, però volevo fare la spacchettamento tutti insieme, ok, così, per i miei amici che mi guardano lì, sto dicendo là su un diretto Facebook che sto spacchettando, perché quelli di Foodspin, la prima cosa che mi hanno detto è non aprite quella, non porta quella scatola, ok, ci siamo, mi è arrivato, guardate, eccoci qua, abbiamo una scatola gialla, allora perché, sì, ho capito Foodspin, ve la tiro fuori, la scatola gialla, ok, la Cooper tiri fuori la scatola gialla, pacchettiamo, Foodspin mi ha mandato un pacchetto speciale che sta sul loro sito che per una settimana sarà in offerta, ragazzi, allora abbiamo fluffy pancakes, bowl di yogurt e muesli, bowl di porridge a cioccolato, porridge sono i fiocchi di avena, toast di fette a pomodoro, mmm, toast di fette a pomodoro, pane proteico, allora, poi mi hanno regalato qua, bello, il grembiulino, ok, il grembiulino che dopo l'indosserò per cucinare, e guardiamo che c'è dentro questo pacchetto che adesso è scontato, abbiamo protein muesli, protein pancakes per fluffy pancakes, porridge a vaniglia, io adoro porridge a vaniglia, protein cream, questa è droga pura, protein cream al cocco, pazzesco, protein bread, pane proteica, che è super buonissimo, pieno di semi, molto buono, è la chia bianca, è tanto che non ho la chia bianca, questo è pieno di omega 3, ragazzi, chia bianca, allora, per i miei amici che stanno in facebook, ragazzi, questo kit lo potete trovare su foodspring scontato, mi pare di 20%, non vorrei sbagliare, provate anche con il mio codice sconto, che è Jill Yt per 15%, e ti arriva il kit, prima collezione a casa vostra, con delle ricettari, carinissimo, del grembiulino che rimane tuo, ok, per tanto tempo, e tutto questo, ripetiamo, ok, ragazzi, sono tornata, chiuso quell'altro, allora, mettiamo il nostro grembiulino, che bello, io adoro grembiulini, io c'è proprio una collezione di grembiuli, e posso veramente sporcarmi tanto, e due, mi piace proprio, mi fa sentire, non so, casa, mi fa sentire proprio la padrone di casa, io adoro, se io avessi una casa di 200 metri quadrati, fa dai 100 metri quadrati solo di cucina, con spaccio per tutti quanti a cucinare, allora, ritorniamo su quale che ci arriva, questa si chiama la breakfast box, che vuol dire, nostra scatola di prima collezione, e abbiamo trovato dentro questi prodotti meravigliosi, che potrebbero fare tantissime ricette per prima collezione, ci arrivano anche i ricettari, allora, se tu dici, io quando mangio la prima collezione, io faccio intermittent fasting, o intermittent eating, come le dico io, mangiare ad intermettenza, cioè, io faccio una finestra tra l'ultimo pasto, e il primo pasto della giornata di almeno 13 ore, così spesso e volentieri arrivo di una finestra dove non mangio per 14 ore, e poi mangio per 10 ore durante l'arco della giornata. Se io devo scegliere in questo momento, direi che la mia passione è il porridge, io adoro il porridge. Il porridge è fiocchi di avena, ci dà, oltre la fibra, l'inolina, e la fibra non solubile, che passa nel nostro viscere per aiutare sempre a nutrire la microbioma, che aiuta il metabolismo, aiuta il sistema immunitario, aiuta la pelle, aiuta l'umore, aiuta a produrre serotonina. Abbiamo la proteina, ok, vediamo quante proteine abbiamo, ho preso le mie occhiali da Edna Mood, guardatemi. Allora, le nostre proteine abbiamo 32 grammi per 100 grammi, ho 19 grammi di proteine per 100 grammi, quando noi prendiamo una porzione, perché ovviamente non mangiamo 100 grammi. Usiamo un latte vegetale a scelta, io userò il latte vegetale a scelta, per me sarà il latte di cocco, perché mi piace il latte di cocco, ok? Ovviamente, se volete usare anche un latte di mucca, fallo pure, questa è la tua scelta, io vado matta di latte di cocco e continuerò così. Così, mettiamo un paio di cucchiai delle nostre protein porridge, e noterete che, oltre alla porridge, c'è un po' di polvere, che è la proteina che sta dentro. Ricordate sempre che le proteine, le food spring, sono grass fed. Grass fed vuol dire che sono allevati a terra, mangiano e brucono erba in Nuova Zelanda. Le mucche, quando mangiano l'erba, hanno un più alto contenuto di omega 3, tutti parlano di omega 3, omega 6, omega 9, il problema è che omega 6 sono infiammatori, mentre omega 3 sono anti-infiammatori naturali e fanno molto bene per il nostro cervello. Così, ricordate quanto è importante l'omega 3, e fate un piccolo miscuglio, cominciate a mischiare la vostra protein porridge, così può assorbire il liquido che tu hai scelto. Volendo, potete sempre aggiungere delle fragole, o aggiungere... Oh, no, c'è un mirtilli! Mamma mia, quanto mi piacciono i mirtilli! C'è un mirtilli che ho preso l'altro giorno, mi piacciono da morire, e anche i mirtilli antucciani del mirtillo eccellente come antiossidante. E così, se dobbiamo mangiare una cosa sano, gustoso, buono, intelligente e magro, che in questo momento non guasta, considerando che siamo tutti quanti chiusi in casa, più mangiamo bene, meglio è, e così mettiamo meno chili ad osso. Aggiungo un po' di grassi sani, che sarebbe anecardi, perché anche qui vado matta, ok? E prima di assaggiarlo devo fare una foto, devo fare una foto, e mi serve quella telecamera per fare le foto, così. Aspettate, faccio foto, e torno! Allora, per me sono quasi già l'una così, per me è perfetto. Uh, sai che altro che potresti fare? Mmm, 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 soddisfazione. Poi è sempre molto benefica a mischiare proteine e carboidrati, così quando mangiate le vostre carboidrati, con un po' di proteine, radentate l'assorbimento delle calorie, delle zuccheri, così avrai una sazietà maggiore. Aggiungendo gli anicardi, come ho fatto io, il carico di grassi rallenta l'assorbimento degli zuccheri. Metto la frutta, secondo me è sempre un positivo dal punto di vista per le vitamine, i minerali, i sali minerali. Mmm, mmm, diamo al corpo quello che serve. Mangiamo in modo gustoso, ok? E supereremo in questo momento facendo anche sport, mi raccomando. Magari vi metto anche in questo clip un po' di allenamento, così potete avere anche l'allenamento alla fine di questo clip, così ti do tutto, un po' di consigli di nutrizione oggi, un po' di sport. L'altra cosa ricordate che potete risparmiare, come? Ordinando il breakfast box su foodspun.it. Per una settimana sarà con uno sconto di 20% se utilizzate il codice sconto, ok, qua, metterò il codice sconto qua sotto, ok? E poi, entro una settimana, prenderete anche il granviule e anche il ricettario che arriva con questo kit super nuovo, novità totale di foodspun, è super gustoso, ok? Così, vi auguro una buonissima quarantena, state in casa, stay safe, stay strong, stay sano, ok? Mangiando bene, allenandoti, ok? Facendo anche magari un po' di meditazione. Siete speciali? Vi voglio bene e provate anche, non so se succede, se funziona, ma oltre il 20% di sconto che potreste prendere immediatamente, provate il mio codice sconto, non so se funzionerà, ma perché no? Provate per avere un ulteriore 15%, gil, yt, su foodspring, ok? Così, vi vedo il prossimo mese e vi auguro una giornata favolosa. Step touch, amici miei, step touch, perché uno step touch? Dobbiamo riscaldarci, facciamo tre minuti di riscaldamento, perché oggi facciamo una tabata. Io adoro tabata perché ci permette di fare un lavoro total body, altamente intenso, che ci permette di avere tantissimi risultati, ok? Però in modo molto veloce, allenamento breve, intenso, ma molto efficace. Ok, prendete il vostro elastico e lavoriamo anche per le spalle, allargando e facendo un bel step touch, ok? Proprio per riscaldarci. Lo sapete che io adoro il trampolino, lo potreste fare questo sul trampolino perché ti riscalda più velocemente e ti aiuta molto con tabata, ok? Però io volevo fare anche un tabata per i miei amici che non hanno il trampolino perché giustamente dice per par condicio, ok? Così, continuiamo a step touch, allargiamo le spalle e diamo ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e andiamo, slanci con le gambe, destra e sinistra, slanciamo le gambe, ok? Se notate bene, io quando vado in diagonale, inalzo il talone, ok? E chiudo poco a poco la punta, ok? Continuiamo. Proprio per riscaldare bene i glutei e porto il braccio in avanti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e porti su, su con il ginocchio, su. E fai un piccolo crunch anche con l'abdomen, ok? Così, fletto, addominali e gambe insieme. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora. E 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e leg curl indietro, ragazzi. Ok, legatevi le vostre elastico intorno a punto vita, ok? Per continuare a fare il nostro lavoro di riscaldamento, perché fra poco dobbiamo cominciare con il nostro primo lavoro. Il nostro primo lavoro sarà 4 da una parte e 4 dall'altra, perché sono 8 ripetizioni di Tabata di 20 secondi con 10 secondi di recupero, ok? E noi facciamo un bel salto in fondo, ok? In fondo alla volta, partendo con le gambe destra per 4 volte, poi le gambe sinistre per 4 volte. Ok, posizioniamoci. Ok, 12 secondi. Il ginocchio sta perfettamente posizionato sopra il talone. Il salto sarà minuscolo, piccolo piccolo. Ok, 3, 2, 1, e noi cominciamo a fare un piccolo salto per 20 secondi, ok? Se non volete fare il salto, potete anche solo premere verso basso. Respira, ok? Piccolo piccolo, piccolo piccolo, anche senza grandi salti, ok? Propriano a fondo, lavorando sul talone. 2, 1, and relax. Ok, ricordate che faremo sempre la stessa gamba, non mi cambiare le gambe, ok? Ripeto, sono 20 secondi, sembra molto lungo, perché è lungo, perché Tabata è intenso per questo. 10 secondi di recupero. Stessa gamba. Continuiamo a lavorare sulla stessa gamba. Faremo 4 a destra e poi 4 a sinistra. Continuiamo. Dai, dai, dai. 7 secondi comincerai a sentire tanto il lavoro, proprio perché l'acido lattico si fa sentire con Tabata. E mi piace perché è alta intensità, ok? High intensity interval training, Tabata è altissima intensità. Terza di 4, ok? Siamo a metà strada. Continuo a lavorare su questo talone che mi dà quella spinta, altrimenti scendo soltanto in giù, ok? Questo è un adattamento per fare un lavoro intenso, ma breve, ok? Ancora 2, 1, stop. 1, ancora 1, e poi la faremo 4 volte dall'altra gamba. Respira, recupero, recupero, respira. E poi ricordate le costanze che ci rende veramente più potenti. Tabata è eccellente per chi vuole fare tanto in poco tempo, ok? Veramente tanto, ok? Ultime 10 secondi di questo lato e poi le possiamo dire, l'ho fatto! Ancora 4 secondi, grandi sorrisi, state facendo un lavoro, pazzesco. E stop! Ok, yeah! Destra andata. Adesso facciamo la sinistra. Porta la sinistra in avanti sempre con la stessa regola, ginocchio sopra il talone, siamo pronti? E piccoli salti o piccole pressioni, perché nel caso che non vuoi saltare, mi va bene anche così, ok? La cosa importante è di rimanere attivi per 20 secondi, ok? Piccoli salti, grandi sorrisi. E vedi che io non sto facendo salti pazzeschi, ok? Perché voglio anche proteggere le ginocchia, la schiena neanche, ok? Così non è necessario fare un uauh o qualcosa strappalacrime, ci puoi fare tanto con movimenti controllati. Di nuovo. 2 di 4, ok? Siamo al secondo di 4. E la cosa bella di Tabitha è che passano a battere il baleno, perché sono 3 blocchi da 4 minuti. 12 minuti. Lavoro. Ok? E continuiamo. 4, 3, 2, 1 stop! Yeah! Ah, ok? Ma è quello 2 volte con la gamba sinistra. E poi dici, yeah, l'ho fatto, sono contenta! Ok? 2, 1, e partenza! Salgo, scendo. Ricordate, potete anche solo premere verso basso per avere i risultati. E continui a saltare, lavorare e fare quello che è massimo per le vostre glutei, le vostre latto B. Continuiamo. 3, 2, 1 stop! Ultima! Ultima! Poi avremo fatto il primo blocco del nostro lavoro di Tabitha, poi ci mancano altri due blocchi. 2, 1, Vamonos! Let's go ragazzi! Ancora, continui. Guarda questo ginocchio che sta sopra quel tallone. Se non potete saltare, spingo, spingo, spingo verso basso. Dai, 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 dai! Ancora! 7 secondi! 5 secondi! 4, 3, 2, e stop! Ok! Respira, 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 respira! Perché adesso abbiamo una piccola pausa di 30 secondi. Ok? 30 secondi di recupero. Ok! Bevete un po' di acqua, se avete bisogno, non lo so, scappa in magno, ma molto velocemente in 30 secondi. Però bevi un po' di acqua per tenerti sempre idratata, specialmente quando facciamo Tabitha. Ok? Adesso, la prossima, andiamo a lavorare sia l'interno coscia che il nostro pettorale insieme. Ok? Lo facciamo facendo un grand plié e spingendo in avanti con il nostro elastico. Ok, vado. 20 secondi, 20 secondi, 20 secondi. Vai, vai, vai! Continui così. Vai, 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 vai! Continui, vai! Spinta, spinta, spinta verso basso, spinta, 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 spinta. Ancora, 4, 2 e 1, su! Ok, recupera, spingi e recuperi. Ok, ancora 5 secondi, siamo alla prima. E andiamo, siamo pronti? Vai, vai, vai! Giù, 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 ancora. Spingo in avanti e uso l'interno coscia. Ok? Proprio un lavoro intenso. Scendi su quella coscia, scendi, spingi, lavori. Stai facendo un lavoro incredibile. 3, 2, 1, stop! Sì, stiamo facendo tanto per il nostro corpo. Sono orgogliosa di voi. Ci mancano 3 secondi per ricominciare. Siete pronti? Ibarica! Go! Go! Ancora! Scendo, scendo! Vai! 14 secondi, ok? Continuiamo. Senti il lavoro, ok? Come io ho fatto il gluteo, adesso facciamo l'interno coscia, pettorali. Ok, quando uso le braccia con un movimento di gambe, vai, recupera. Aumenta anche il battito cardiaco, così, anche senza saltare, mi permette di avere un bel lavoro brucia grassi. Vai! Dai, come ci chiama questo allenamento? Quanto ci stiamo lavorando bene per il nostro corpo. Spingi in avanti, dai! Altamente brucia grassi. State vedendo un lavoro incredibile. Continuate. E 5, 4, 3, 2, relax. Ok, siamo già a quota 4 e ti posso garantire nell'ultima 4 lo sentirete ancora di più questo lavoro. Però, dai, e adesso tutto è discesa, tutto è discesa. Gampini spingono avanti, ok? Le ginocchia puntano verso i piedi. E continuo proprio a fare un lavoro pazzesco per il mio benessere, il mio benessere mentale. Perché ti posso garantire che è relax. Quando faccio una cosa per me, mi aumenta l'autostima. E' proprio, è matematico. Cioè, ti senti subito, ti senti super orgoglioso con te stesso. Dici, oh, guarda che ho fatto. E' fantastico. E la cosa bella è che ogni volta che compie un allenamento a casa tua, uno dici, guarda, sono intelligente perché non sono dovuto uscire di casa, non sono dovuta andare in macchina, non ho dovuto trovare il parcheggio. E poi ti tuffi dentro, ecco, ferma, ti tuffi dentro la doccia e hai fatto tutto in meno di 20 minuti. Ecco, ecco come si ottiene i risultati, la costanza. Ok, ecco, avendo la mia palestra a casa, a casa tua, dentro la tasca, on now, avete la possibilità di allenarvi quando volete voi, come volete voi, dove volete voi, anche in vacanza. Ancora sei secondi. Vai, vai. Grandi sorrisi. Dai ragazzi, oh, ancora. Ci manca poco, ok, per avere il massimo di questo circuito. Poi abbiamo ancora un giro di Tabata. Siete pronti? Vai, ok. Continua. E noi faremo dei belli allenamenti per i nostri abdominali. Dai, dai, dai. Spingo, spingo, spingo. Dieci secondi. Vai. Pompa, pompa. Ancora quattro. Grandi sorrisi. Sono molto, molto orgogliosa di voi. Vai. E quando voi sentite veramente troppo stanchi, potete interrompere. Però il mio suggerimento è rimanere guerrieri, ok? Per rimanere guerrieri vuol dire continuo in modo costante. Posso anche interrompere. Ma non gettare la spugna. Non gettare la spugna, ok? Non direi, ok, vabbè, è troppo, non ce lo faccio, mi sento stanco. No. Magari fai dieci secondi e puoi recuperare i venti, anziché fare i venti secondi e recuperare i piedi dieci. Allora, al calco è stato il vostro elastico. Sarò molto gentile perché vi faccio lavorare nel nostro punto vita. Veloce, però sarà un po' meno faticoso, ok? Destra e sinistra. Abdominali molto tesi. Le spalle sono allontanate dalle vostre, diciamo, orecchie. E dondolo, destra e sinistra. Destra e sinistra, punto vita. Faccio a cucchiaio, vedi, porta il bacino in avanti. Ok? Due. Uno. Relax. Respire, ma non disfare l'elastico perché dieci secondi passano in fretta ed in puria. Rialargo, scendo giù e ci mancano sette volte, ok? Veloce, veloce. E ricordate che siete adesso proprio su la discesa. La discesa. Avete fatto la parte più difficile, la parte più lunga. Questa è la parte un po' più ludica perché è più facile, ok? Ancora. Quattro. Tre. Due. Uno. Stop. Stop. E poi l'altra cosa che ci aiuta con il punto vita. Ci aiuta a delineare il punto vita, a sottigliare il punto vita, che ti fa sembrare più magra. Non c'è niente da fare. Cioè, veramente, è una questione di illusione ottica. Però, perché no? Perché non lo facciamo? Ok? Continuiamo. Destra e sinistra. Veloce, veloce. Lo so che questo è più facile. E così, dice Gilo, che grazie. Grazie per averlo fatto. Continuiamo. Tre. Due. Uno. E relax. Ci siamo quasi finiti. State facendo un lavoro pazzesco. Sentite il sudore? Che è quattro. Tre. Scendo. Facciamo un po' più corto. Più veloce, più corto. Più veloce, più corto. Senti, tiri dentro l'omblico. Provate di schiacciare destra e sinistra, destra e sinistra, il vostro punto vita. Per sottigliarla, per tonificarla. Ancora sei secondi. Dai, siamo veramente alla fine del nostro allenamento insieme. Dovete essere, non orgogliosi, di più. Di più. Perché ogni giorno state diventando più forti con me e io sono orgogliosa di voi. Siamo pronti? Ci siamo pronti per ripartire? Go! Ok. Dai. E ricordare che l'allenamento non deve essere un non plus ultra, dopo le spese, dopo che ho fatto la faccenda di casa. No. Fai prima l'allenamento e poi pulisci casa. Fai prima l'allenamento e poi aiuti il tuo figlio, il tuo marito, tutti quanti. Perché devi venire tu prima degli altri. No? Perché se tu aspetti di tutta la tua faccenda, venire lì tutte, non ti allenerai mai. Diciamo la verità. Dai. Proviamo un po' di... Almeno essere onesti con noi stessi. Invece l'allenamento è un obbligo. Ok? Io quando mi sveglio la mattina, io non dico se mi alleno. Io dico quando mi alleno, ok? Come il caffè, ok? È una certezza della mia giornata, perché già se smetti di allenarti anche per due o tre giorni, ok? Diventa sempre più difficile il quarto giorno di metterti in carreggiata. Questo è poco ma sicuro. Così, con le buone maniere, dobbiamo rimanere attivi. Di nuovo. Dai ragazzi, veramente adesso stiamo parlando di ultime ripetizioni. Sono facili? Allora non mi interrompere adesso lo tuo allenamento, ti prego. Adesso devi essere proprio il guerriero, la guerriera. Proprio che finire questo allenamento bene, e siccome sono uno trainer, so che è altamente tollerabile quello che ti sto facendo. Ok, così. Finiamo in bellezza, mi raccomando. Ok? Se volete proteggere la mano, potete anche prendere dei guantini, ok? Dei guantini che ti proteggono la mano, ok? Quando usi l'elastico. Ma conti il più veloce possibile, ultime 12 secondi. E poi l'avremo finito il nostro allenamento. Ok? Grandi sorrisi, 5, 4, 3, 2, 1, sentite, ah, e 10 secondi ragazzi. Abbiamo fatto un allenamento pazzesco del nostro Tabata, e spero che ti piace questo allenamento che ci permette di bruciare tante calorie mentre ci tonifichiamo, e vi aspetto sempre insieme per allenarci, divertendoci e diventando sempre più orgogliosi di noi stessi. Pace per adesso, ti vedo fra poco.